Questo programma è offerto da... Eccoci nuovamente con... Stefano Pedersoli e questa volta per me è un'emozione ancora più grande quando parlo di questa arma, perché questa arma è stata l'arma di Buffalo Bill, è stata l'arma del generale Custer a Little Big Horn e non ti nascondo che per me portarla a caccia di cinghiali sarà una grande emozione. Ascolta, per la realizzazione di quest'arma vi siete basati, sto parlando ovviamente dello Springfield Trapdoor modello 1873, giusto? Cavalleria, Carbin, cioè con la canna da 56. Ecco, vi siete basati su un modello originale oppure da un progetto originale e poi avete lavorato ex novo? Sì, noi siamo partiti da un modello originale, da un progetto originale come di fatto è nostra prassi. Quello che poi noi facciamo, dovendo proporre il prodotto nella maniera più sicura possibile, è rivisitarlo o per meglio dire verificare quelle che sono le parti meccaniche e soprattutto la movimentazione, in questo caso l'apertura della cerniera, l'inserimento della cartuccia, al fine di risolvere e eliminare totalmente qualsiasi problema legato al funzionamento o alla sicurezza. Nel caso del modello Trapdoor siamo andati a eliminare i rischi di apertura dello sportello che effettivamente si verificavano nelle armi originali. Quindi siamo intervenuti con dei software tridimensionali al fine di studiare l'apertura, di intervenire sui fulcri di rotazione delle leve e fare in modo che le forze sprigionate durante l'esplosione dalla polvere da sparo e il colpo non intervenessero aprendo lo sportello. Quindi di fatto l'arma è sicura al 100%. Poi comunque, ripeto, l'arma, come tutti sappiamo, viene provata in Banco Nazionale di Prova con pressioni del 30% superiori a quelle commerciali. Quindi siamo del tutto sicuri. Tra l'altro la versione che io porterò a caccia è, come ho accennato prima, la versione cavalleria, quindi quello più corto, quello più leggero, più compatto e ovviamente più adatto al tipo di caccia che andrò a fare al cinghiale sia in battuta che all'aspetto. Il calibro è il 45-70, l'abbiamo detto, utilizzerò una cartuccia da 300 grani standard, d'accordo con le mire metalliche. Ecco, io ti volevo dire, in quanti modelli, in quante versioni lo fate il tram? Le versioni sono principalmente tre. Una è la carabina, che è appunto la più corta. Poi abbiamo la versione da ufficiale, che a differenza di questa ha una bacchetta di pulizia per la canna e la presenza di uno sticker. Certo. E poi abbiamo la versione da long range, quella che viene utilizzata solitamente per il tiro a lunga distanza, con o senza la presenza di sticker, con canna e calciatura più lunga. E con la presenza di mirino a tunnel e di diotra. Quindi queste sono le tre versioni che caratterizzano... Il calibro è sempre il 45-70. 45-70, certo, il vecchio government. Ascolta, una curiosità mia personale. Per uso caccia, vende più lo sharps o il trapdoor? Allora, io direi che vende di più lo sharps, ma solo esclusivamente perché è più conosciuto in ambito internazionale rispetto allo spring fit trapdoor. Questo perché parlando di brandibilità, forse un modello come la carabina dello spring fit trapdoor, meglio ancora si presterebbe rispetto ad alcuni modelli dello sharp. tanto per darvi un'idea, i nostri cacciatori amano andare con lo sharp, ma con modelli di sharp che forse a noi potrebbero sembrare inutilizzabili, cioè con canne molto lunghe, molto pesanti, mentre oggi ci stiamo portando all'attività venatoria con modelli che ben si prestino, come ad esempio la carabina. Come questa carabina qui, certo. Ecco, ti volevo chiedere una cosa Stefano, che tu sappia, c'è già stato qualcuno che ha portato questo tipo di carabina corta a caccia negli Stati Uniti di prede grosse? Sì, il 45-70 è un calibro che ben si presta a prede di una certa dimensione. Abbiamo alcuni clienti, diversi clienti, che sparano anche con il fucile trapdoor e che lo portano normalmente in ambito venatorio. Prede importanti come possono essere l'orso nero, il cinghiale, prede di questa dimensione. Ecco, ma in Italia ancora siamo agli albori, quindi lo conoscono poco. Storicamente lo conoscono, abbiamo qualcuno che lo utilizza anche in ambito venatorio, principalmente per la caccia al cinghiale, sì. Certo, infatti i puristi dicono che andare al cinghiale con le carabine semi-automatiche, con caricatori da 10 colpi, non è etico. Qui siamo un po' al limite perché c'è un colpo solo. Qui siamo un po' al limite. Però naturalmente c'è il discorso che ricaricare è abbastanza veloce, quindi si dà eticamente, sarebbe quello che ci aspetta. Due colpi sono sempre meglio di uno, però... Però va bene, d'accordo, però dovrò dar fondo a tutte le mie capacità di precisione. Bene, non ci resta che andare al tunnel e poi dopo a caccia. Bene, grazie. Allora, andiamo. It's time now to start zeroing our Springfield trapdoor. I'm going to shoot some sample shots at a distance of 25 meters just to take confidence with the size and the trigger pull of the carbine. Then I will properly zero the rifle at a distance of 50 meters shooting from a steady rest. The quality of the sights of this gun is very good. They are completely adjustable, so they allow the hunter to choose and change any ammunition it could desire. For my field test, I have chosen for a commercial ammunition, the Federal Power Shock 300 Greens jacketed soft point. Ok, let's start the wolf thing. Shooting with a Springfield trapdoor is always a great emotion, and this Pedersoli's replica is not an exception. Dunque, ho fatto un preazzeramento, o meglio, un adattamento a quest'arma a 25 metri. My first step was to take a little bit confidence at 25 meters with the trigger of this gun and its sights because I'm not accustomed with this kind of triggers and sights. After just three shots, I was able to place my bullets on the right horizontal axis. The only personal problem I had was with the aiming with the front sight of this rifle, which is not adjustable. So I had to place the impact point exactly on the top of it once perfectly aligned with the rear sight. It took me three shots to understand the correct alignment of the sights with my testimonies on the Federal Power Shock 300 Greens. Then I tried a shot with the Hornady-level evolution just to verify the difference in the point of impact of the two bullets. At 25 meters of distance, there was not any difference of point of impact between the two ammunition. This is particularly important if you decide to use the carbon for wild boars on drive hunting because you can use the two ammos indifferently. Now I'm going to shoot with both ammunition at 50 meters, first to prepare the final zeroing of the rifle with the power shock, then verify the eventual difference in the point of impact of the two ammunition. Well, let's start. In the final position, this is a billboard is totally an illness. First, it's a billboard is safe. In the last position, I am going to place the same size. I want to stay in the first position, first to make sure it is possible. Well, we didn't have to know the bottom of the Information. Yeah, if we have to see it, we can see it. I'm going to close the room here. Next, we have to use the interior of our piubank and the lower-level. Siamo riusciti, poi la fine sessione di shooting, I was able to perfectly zero in the rifle at 50 m. The difference in the point of impact of the two ammunition is minimal, says in the order of half an inch, practically nothing. The gun is very, very accurate, so now I'm really ready to go drive hunting wild boar in my beloved Tuscanito. Amici cacciatori veri, eccomi a parlare nei particolari storico-culturali, meccanici e tecnico-operativi di una delle prime armi a retrocarica veramente importanti nella storia delle armi da caccia, il Traptor Springfield 1873, che ho testato per voi sul campo di caccia nella versione replica prodotta dalla Davide Pedersoli. Questa fu l'arma con la quale Buffalo Bill affrontò la maggior parte degli oltre 40.000 bisonti che uccise in carriera e che accompagnò il generale Caster nella sua fine ingloriosa il 24 giugno del 1876 al Little Big Horn nel Montana. Lo Springfield Trapdoor nasce il 21 ottobre del 1865 grazie ad una geniale invenzione del capo armaiolo dell'arsenale della Springfield Armory, il signor Erskine Allen, il quale riuscì a trovare una perfetta modifica per trasformare i vecchi fucili ad avancarica Springfield modelli 1861 e 1863 in carabine a retrocarica. La modifica consisteva nella fresatura di alcuni centimetri della parte superiore della culata della canna sulla quale poi veniva montato un blocco otturatore ribaltabile verso l'alto chiamato in inglese appunto trapdoor o botola in italiano grazie ad una cerniera situata nella parte anteriore sulla quale veniva poi incisa una scanalatura per vedere bene la tacca di mira e il mirino. Un sistema così concepito portava tre enormi vantaggi. In primis permetteva l'impiego di cartucce a bossolo metallico poi permetteva al tiratore una celerità di tiro enormemente superiore rispetto ad uno utilizzante un'arma ad avancarica. Per avere un'idea precisa su questo importante argomento sappiate che ai tempi del West ci volevano quasi 30 secondi per ricaricare correttamente un'arma ad avancarica mentre nello stesso tempo con un trapdoor Springfield il tiratore riusciva a caricare e a sparare dai 4 ai 6 colpi a seconda dell'abilità del tiratore. Infine rappresentava la prima arma con un sistema di manutenzione moderna in modello utilizzato da Buffalo Bill che lui stesso ribattezzò Lucrezia Borgia era uno dei primissimi esemplari di Springfield modello 1865 della seconda riconversione ottenuti proprio grazie alla geniale invenzione di Erskine Allen ed era camerato nel calibro 50-70 Government una cartuccia a polvere nera che bruciava 70 grani di polvere per spingere un proiettile di piombo da 450 grani a circa 1250 piedi al secondo. Il modello invece utilizzato dal generale Caster era proprio quello della nostra prova a caccia ossia il modello 1873 Carbon Cavalry da cavalleria camerato in calibro 45-70 Government Ai tempi del generale Caster il modello da cavalleria in uso al suo settimo cavalleggeri utilizzava una munizione depotenziata denominata 45-55 che ospitava nel bossolo 55 grani di polvere nera in luogo dei 70 canonici del calibro questo per non sbilanciare nel tiro e non sottoporre a eccessivo stress la spalla dei soldati che sparavano spesso da cavallo il calibro 45-70 Government ai tempi della caccia nelle grandi praterie americane prevedeva un proiettile standard da 458 centesimi di pollice di diametro con un peso di 405 grani che veniva spinto da 70 grani di polvere nera ad una velocità alla bocca di circa 1350 piedi al secondo. Il bisonte americano che i cacciatori di allora tiravano a distanze di tiro variabili tra le 100 e le 300 yard è un animale dal peso medio variabile tra i 350 kg delle femmine adulte e i 750 e oltre kg dei maschi adulti con punte anche di 1350 kg per i vecchi maschi i tre proiettili più utilizzati in questo calibro per la caccia al bisonte erano il 405, il 470 e il 500 grani proiettili completamente in piombo che dovevano la loro efficacia a tre parametri erano lenti, pesanti e avevano un diametro tale da infliggere ferite notevoli io per la mia modesta prova a caccia al cinghiale imbattuta ho utilizzato una cartuccia commerciale standard con un proiettile più leggero ma dalla velocità assai maggiore la Federal Power Shock con proiettile Soft Point Flat Base da 300 grani avente una velocità alla bocca di 1850 piedi al secondo come accennato poc'anzi il modello del mio testa a caccia è il Pedersoli 1873 Carbon Cavalry con canna da 56 cm avente passo di rigatura di 1 a 22 a 3 principi di rigatura in luogo dell'antico e originale 1 a 38 l'arma è lunga appena 1 metro e 5 cm per un peso complessivo di soli 3 kg e 300 grammi quindi in linea con le carabine da caccia di ultima generazione che vengono impiegate a caccia cinghiale imbattuta il sistema di mire metalliche standard in questo modello prevede un mirino fisso a pinna di squalo che ho opportunamente colorato in arancio fluorescente nella parte apicale triangolare e in bianco fluorescente alla base rettangolare e da una tacca di mira formata da una parte mobile a cursore ulteriormente ribaltabile con il cursore completamente abbassato l'azzeramento standard dell'arma è a 100 yard muovendo poi in avanti orizzontalmente il cursore si hanno gli scalini di regolazione del tiro a 200, 300 e 400 yard poi il blocco cursore si ribalta e il mirino si sposta su un alzo verticale con riferimento mobile scorrevole per tiri da 500 a 1.100 yard naturalmente tali riferimenti di base erano e sono concepiti per la cartuccia standard cioè quella da 405 grani spinta a 1.330 piedi al secondo l'ergonomia dell'arma con il calciolo sagomato l'astina corta e il baricentro solo leggermente spostato in avanti si adatta molto bene ai tiri di imbracciatura lo scatto ha un peso di sgancio attorno ai 1.700 grammi l'acquisizione del bersaglio nel mio caso il cinghiale in battuta è rapido e va preso partendo dal basso e affondando bene il viso sulla pala del calcio la pistola è piuttosto spessa quindi l'arma si tiene bene in mano e in asse con la linea di tiro l'intera calciatura mitica molto bene il rinculo e rilevamento della carabina che sono molto contenuti il funzionamento del trapdoor è semplice ed istintivo una volta arretrato il cane al secondo scatto si spinge verso l'alto la levetta di chiusura posta sulla destra della botola otturatore che ribaltandosi in avanti da libero accesso alla camera inserita la cartuccia si riabbassa l'otturatore avendo cura di far scattare la levetta di chiusura a quel punto basta armare completamente il cane al terzo scatto e l'arma è pronta al fuoco una volta sparato il colpo per espellere il bossolo si riporta il cane a mezza monta e si sgancia la levetta di chiusura spingendola in avanti con decisione lo springfield trapdoor è un'arma che non è dotata di alcuna sicura tradizionale bene esser chiari questa carabina si tiene in sicura con il cane a mezza monta quando si parla di prodotti Pedersoli inevitabilmente si finisce con elogiare il lavoro della casa gardonese proseguendo il lungo sentiero dell'epopea dell'ovest americano davide Pedersoli ha voluto completare il tritico dei più famosi fucili monocolpo di quell'epoca sharps, trapdoor e rolling block lo springfield trapdoor è l'ultimo della leggendaria serie nato nell'azienda gardonese le pregevoli particolarità e la professionale esecuzione delle parti che contraddistinguono le armi Pedersoli anche su questo modello tengono fede alla fama del marchio gardonese i legni sono in noce americano come dovuto di corretta tipicità e lucidati ad olio le parti interne sono completate in maniera ottima profili, piani e spigoli rispondono perfettamente all'esigenza meccanica non discostandosi di molto dalla finitura esterna complessivamente un ottimo prodotto sia nei modelli base che per i fuori serie con un rapporto qualità prezzo come sempre favorevole e professionale There were two important questions to verify before going hunting the first regards the rapidity of fire one can expect on the hunting field with this gun on drive hunting for wire boards I have found on internet an original official owner's manual of this gun in which is stated that a recruit was able to shoot an average of 8.5 shots per minute while a veteran soldier was able to shoot 11.5 shots per minute so I had to practice a lot before hunting the second regards the correct placement of the spare ammo during the action a very important question being the typical action of drive hunting very fast in this manual is stated that the best place where placing the ammo is between the fingers of both hands the shooters of those times were accustomed to hold the spare ammo like this three in the right hand and three on the left hand in this way they had them handy and fast ready for the action so I am ready for the Tuscany wild boars as you have seen it has been a very difficult shot at about 80 meters of distance but the good accuracy of this carbine and the great energy of the caliber and the bullet switched off the big board I am really satisfied on my first attempt now the dogs are still barking it's loud so I must concentrate on a possible second wild boars this is my second wild boars of the day with the Springfield trapdoor the shot was by far more difficult than the first one since the wild boars was running very fast at least 60 meters of distance however the final result was the same I stopped it with just one well-placed shot now I must go to the board to send back the dogs and then return back to my placing sadly I was not able to switch on my camera in time to record my third kill of the day this was also a great shot I'm very very happy today being able to take down three wild boars with three shots using an old carbine like this is reason of really proud for me it's a great satisfaction it's a great satisfaction today is one of the best day of my life and of my hunting career this for various reasons first because I was not sure to possess the necessary requirements and hunting experience to make such a hunting field test with a Springfield trapdoor but with a lot of patience and perseverance I finally did it this is the largest wild boar it has been a very difficult shot particularly with such a rifle since it was running very fast but above the mere numbers of wild boars and shots made today the most important thing is that I have been able to reward the trust Stefano and Pierangelo Pedersoli put on me for this difficult field test above all this is a 50 plus years old gun at least 100 years older than me developed mainly for military purposes and just adapted for shooting bism still standing from long distances so taking three wild boars with three shots on running animals makes me very happy and proud with this performance I have been able to do credit to all those hunters before me who used this rifle on the hunting fields as buffalo bill it wasn't an easy task at all I had to do a lot of practice at the shooting range in order to take confidence with each sights and trigger pull and with the complex reloading procedures being this single shot rifle with a trapdoor action I already made a field test in the past with a single shot rifle a pedersoli replica of the sharps 1874 with good results but this was really different story since the field shooting was expected a fast running animal not still standing however this is not more a problem for me I now can go hunting wild boars with the most difficult guns of the history I really hope that my experience on wild boar hunting with this pedersoli Springfield Traptor could be of inspiration for some of you see you soon true hunters this program is been offered by Alex this program is been offered by Alex for a few years you